Adesso succede che dopo questo intermezzo anglofono lei si ritrovi a dormire su un divano e fa un sogno bellissimo dove sogna di camminare accanto a un ragazzo che lei crede sia un ragazzo in realtà più si avvicina all'acqua più le gambe prendono forma di grande pinna con le squame perché in realtà non è un ragazzo bensì è un uomo pesce è un sirenetto e quindi è un sogno bello ma anche brutto perché c'è della sintonia ma proprio lui vive in mare quindi lei si ritiene costretta a scegliere ed è brutto scegliere Scusa tu quanti anni hai perché tu quanti me ne dai non saprei davvero e trova almeno se ti do del lei che fai mi imbarazzo e vado via no ho trent'anni sommattia vado a spasso solo non mi annoia mi respiro male ormai vivi qui o stai lontano in un posto un minimo più sano sulla costa ho una proposta per cui vuoi stringere la mano sai che se un po' buffa è già nel 2000 non si fa però è bello sei rimasto serio e se lo chiedi si mi fa se vuoi vuoi star con noi noi chi chi siete voi siamo lucerrani e forme strani io sono pesce sto per andare se vuoi basta decidere basta decidere, 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 basta decidere e quindi si ritrova tutto questo coro di sirenti che dicono allora che vuoi fare vieni o non vieni qua si sta bene però non c'hai le bracche e insomma tutti questi grandi sireni non c'hai le bracche non c'hai le bracche non c'hai le bracche non c'è la parte